Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Agor E oggi Apriremo un sacco di bauli su Clash Royale Iniziamo con un baule super magico Che c'è da 4183 viola Una gemma 66 mortai 180 scariche 67 gemma 148 lapidi 178 gobi 125 cannoni 24 specchi E 1000 torri Non è assolutamente falso Non sto usando Un'app che È un simulatore dei bauli Non lo assolutamente facevo Non per niente Non per niente Siamo a livello 32 Apriamoci anche un baule costruito 5 stupidi 935 5 stupidi 935 Doblin gang Per bottanore Barbaro scelto E' un baule costruito 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 Il freddo E' un baule costruito E' un baule costruito E' un baule costruito Il freddo notturne e c'è già e io ce l'ho a due più una carta in questo gioco ciao